ieri di G2, guardiamo ieri di G2, guardiamo ieri che vuoi stessi ma va bene, guarda loro le piacere ragazzi, lo ripartiriamo noi, se no, apriamo più questo gioco oh, sono ore che recuperiamo per volta ma andate in giù? Davide, ma voi venite su? si, vanno giù per il fiume e poi sarangiano insomma, noi adesso cagliamo giù molta fiodi ah no, il pannolone non serve a niente no no, mettiamo qua io io il pannolone lo potrei arrivo! lo cagliamo? e poi ci vuole rimanere la piede? lo girai? guarda, la giù è arrivata l'ultimo ma è facile, quando si è bloccato tutto si è fatto da qui proprio per rimanere vedete che questa qua vediamo no, provi la cura male, levalo un attimo poi ci vuole rimanere se no ti apri la ghia questa è la corda di insicuro, apri? si però? piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano, piano piano, piano piano, piano, piano piano, piano molla, molla, molla molla stop Stop! Vesta scura!